La giornata è molto frenetica e inizia con un breve briefing sui prodotti in sviluppo con un costante monitoraggio di quello che è l'implementazione e il mantenimento dei prodotti in produzione. La sintonia con i diversi protagonisti è assolutamente importante. Questo ci permette appunto di non spaziare su delle idee che rimangano tali, ma nel concretizzarle. La sintonia tra il reparto di ricerca e sviluppo e la testa del progetto di Guevara è fondamentale per noi. Questo ci permette di cogliere tutti i vari spunti che arrivano da delle idee brillanti e poterle concretizzare su dei prodotti. Ci sono trasferimenti importanti da settori diversi rispetto a quello del broadcasting. Spaziamo dalla diagnostica avanzata ai sistemi di raffreddamento, ma soprattutto abbiamo già nuove idee e non pensiamo di limitarci a questo. Una diretta comunicazione sincera e aperta ci permette di poter cogliere quello che è lo spunto di un'idea, di un progetto e di portarlo a concretezza nei tempi evoluti. Sono Giuseppe e in WebArt abbiamo messo tecnologia e innovazione.